Siamo in compagnia di... Lunzia Schiano Buonasera signora Schiano Ciao Stasera presso il castello di Minturno ha portato in scena Femmene Sì L'universo femminile raccontato da una donna, ci spieghi la sua scelta Allora, innanzitutto è una scelta condivisa con Miriam Lattanzio che ha scritto parte dei testi e con Anna Mazza che ha scritto Nostra Signora dei Friarielli con una regia che però è una regia maschile perché è la regia di Nicomucci e una regia, come dicevo prima, che è molto attenta all'universo femminile che è un universo variegato e noi cerchiamo di portare in scena, io dico, le eroine di tutti i giorni le persone comuni, le persone semplici quelle che vivono le difficoltà e le gioie della vita di tutti i giorni quindi l'idea era questa, di portare in scena delle donne che sono quasi tutte in attesa fuori a una fermata di un pullman vero o ipotetico che aspettano qualcosa quindi coadiuvate anche senza mai dimenticare che la parte musicale è egregiamente eseguita da Franco Pozio alla chitarra e da Roberto Giangrande al basso che noi chiamiamo il nostro capitano quindi è un lavoro di equip, un lavoro di insieme che ci sta dando grandi soddisfazioni ma sono quattro anni che portiamo avanti questo spettacolo quindi siamo molto contenti E cosa significa per Nunziaschiano essere femmina? Essere femmina significa avere la consapevolezza della propria unicità la consapevolezza di non essere uguale agli uomini e di voler mantenere questa diversità io non voglio essere uguale a un uomo voglio mantenere quella che è la mia unicità e la mia diversità quindi femmina per me significa questo cioè parità di doveri, di diritti ma mantenere la propria essenza e la propria unicità di femmine Grazie